in questo video molto pratico e veloce ti spiegherò quali sono diversi miti da sfatare sul trattamento ortodontico ne girano veramente tantissimi di miti e quindi dobbiamo capire veramente quali siano le informazioni reali e quali siano invece le informazioni false molto spesso anche i pazienti mi chiedono ovviamente questi tipi di informazioni e quindi per questo motivo ho deciso di fare questo video su youtube per informare a carattere generale e iscriviti al canale perché ho fatto tantissimi altri video in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato su tutti i contenuti che pubblico la prima cosa che viene detta spesso sul trattamento ortodontico che è un trattamento soltanto estetico cioè erroneamente la gente pensa che si fa trattamento ortodontico cioè si mette l'apparecchio per intenderci soltanto perché appunto è necessario avere i denti dritti in realtà questo concetto è falso è sbagliato perché mi spiego meglio il trattamento ortodontico non è solamente un trattamento estetico cosmetico come i filler le labbra e così via no è anche un trattamento funzionale si dice che significa che non migliora soltanto l'estetica ma vi permette per esempio di masticare meglio se avete un particolare tipo di malocclusione di parlare meglio quindi migliora la fonesi e migliora anche l'igiene dentale se per esempio avete dei denti che sono affollati ovviamente andandoli ad allineare ci sarà un minore accumulo di placca e quindi chiaramente minori problematiche secondo diciamo mito falso è quello appunto che il trattamento ortodontico è solo per bambini in realtà non è così anche nel paziente adulto il trattamento ortodontico è eseguibile chiaramente non a caso l'ortodonzia invisibile sta portando diversi pazienti anche adulti in generale ad avvicinarsi all'ortodonzia ma non è solo un trattamento per bambini il trattamento funzionale di solito è prevalentemente per i bambini se parliamo di un trattamento più estetico va bene anche per gli adulti è chiaro che non in tutti i casi con l'ortodonzia si riesce a risolvere negli adulti una problematica in alcuni casi negli adulti può essere necessaria la chirurgia ortognatica terzo aspetto sono necessarie delle visite di controllo durante un trattamento ortodontico questo ovviamente una notizia vera che circola sul web è giusto che ovviamente di solito ogni 15 giorni ogni 30 giorni l'ortodontista avrà bisogno di visitare i tuoi denti per poter capire come sta andando la terapia col tuo apparecchio di modificare varie componenti dell'apparecchio e così via quarto aspetto il tempo del trattamento ortodontico è variabile è vero che è variabile dipende ci sono dei casi più semplici che si possono risolvere in un tempo relativamente più breve dei casi che possono richiedere invece delle tempistiche più lunghe l'obiettivo dell'ortodontista è chiaramente non soltanto darti in estetica ma permetterti anche di masticare quindi i denti superiori devono ingranare bene con quelli inferiori questo è un lavoro molto difficile per l'ortodontista quinto aspetto non esiste soltanto l'apparecchio fisso è vero ci sono anche gli apparecchi rimovibili ortodontici gli apparecchi funzionali le mascherine invisibili e così via sesto aspetto non è vero che il trattamento ortodontico è sempre costoso ci sono dei casi in cui chiaramente il trattamento ortodontico può avere anche dei costi non molto elevati ovviamente rivolgiti sempre dal tuo dentista più nello specifico dal tuo ortodontista per avere maggiori informazioni lascia un mi piace iscriviti al canale qualsiasi domanda lascia la qui sotto nei commenti appena mi sarà possibile ti risponderò ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao